Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG di CronTV. Si proclama innocente, Giacob Dano, il 37enne ivoriano, indagato per l'omicidio della figlia Letta Gloria, di soli due anni, interrogato in ospedale dove è piantonato. Lui racconta di essere stato aggredito. Sentiamo. Sabato notte è stato sottoposto ad un intervento che gli ha salvato la vita e ora dal letto d'ospedale dove è piantonato, quao Giacob Dano, ivoriano, 37 anni, nega di aver ucciso la piccola e bellissima figlia Gloria, di soli due anni. Nell'interrogatorio a cui è stato sottoposto in ospedale lui racconta la sua verità. Sabato mattina sarebbe andato a prendere la figlia nella struttura protetta di via Bonomelli dove la piccola e la madre Isabella Odri, di 34 anni, risiedevano da qualche tempo, ovvero da quando lui l'aveva spedita in ospedale con un timpano rotto dalle percosse, conseguenza di un brutto litigio. Dano, in costa d'Avorio, aveva altri due figli e un'ex compagna a cui spediva soldi per il loro mantenimento. Chi lo conosce lo descrive come un bravo padre, ma i precedenti parlano di violenza contro la madre della piccola uccisa a coltellate da un ladro, secondo la sua ricostruzione. Un ladro che li avrebbe seguiti sabato mattina da via Bonomelli fino all'abitazione di via Massarotti dove li avrebbe raggiunti colpendo a morte la piccola e ferendo lui. La scientifica intanto prosegue i rilevamenti nell'appartamento per scoprire se la versione di Dano possa trovare un qualche riscontro nell'impronte sull'arma e nell'appartamento, mentre dalle telecamere, lungo il percorso fatto dall'uomo con la bambina, si cercherà di scorgere la presenza o meno di questo presunto ladro assassino. Rilevamenti scientifici che potranno consegnarci l'unica verità che scagionerà l'uomo o lo rivelerà come un mostro padre assassino. Cambiamo argomento anche a Cremona questa settimana. Previste temperature record. Mauro Faversani. Estate, ora pare che si cominci davvero a fare sul serio. Da oggi fino ai primi di luglio anche la nostra zona dovrebbe essere interessata dal transito di un'imponente aria di alta pressione dovuta all'anticiclone tropicale che dovrebbe raggiungere il proprio culmine tra giovedì e sabato. Previste temperature record anche fino a 40 gradi. L'ondata di caldo potrebbe portare con sé conseguenze negative, ad esempio in quei territori della nostra provincia, già particolarmente provati, specie sul cremasco. Il pronto soccorso dell'ospedale di Crema nelle scorse ore è già stato preso d'assalto con accessi che hanno superato quota 200 e raggiunto anche quota 243 contro i 170 accessi di media. Ma l'estate torrida potrebbe incidere negativamente anche sulla qualità dell'aria. Finora tutto sommato mantenutosi a Cremona entro livelli soddisfacenti o addirittura buoni. Persino con l'ozono, principale nemico di questi mesi, tutto sommato sotto controllo. Nelle prossime ore la situazione potrebbe invece cambiare radicalmente. Invasione di Moschini e Zanzare, partito a Cremona il piano disinfestazione, servizio. La strana invasione di Moschini che ha colpito Cremona e le contromosse del comune che entro domani intanto terminerà il primo lotto di interventi previsti nel piano anti-Zanzare 2019. In questi giorni i trattamenti larvicidi effettuati con la deposizione delle specifiche passiglie nelle calditoie hanno interessato le aree verdi dei quartieri Boschetto Migliaro, Castello Zaist e Maristella. Nei prossimi giorni saranno eseguiti nelle zone Giordano, Cadore e poi Trebbia. Dopo i trattamenti larvicidi, negli stessi quartieri in orario notturno saranno effettuati trattamenti adulticidi a basso impatto ambientale. La ditta incaricata posizionerà appositi cartelli di avviso qualche giorno prima degli interventi con l'indicazione delle misure da adottare durante i trattamenti. Per limitare la riproduzione delle zanzare nelle aree pubbliche, gli interventi sia larvicidi che adulticidi entro il 25 giugno saranno effettuati anche negli altri quartieri ripetuti in tutte le zone della città nei mesi di luglio-agosto, tenendo conto delle condizioni climatiche e dell'impegno finanziario che ammonta 21.500 euro. È comunque importante sottolineare che gli interventi per essere efficaci devono essere accompagnati anche da comportamenti corretti da parte dei cittadini poiché il 70% dei potenziali focolai larvali, sottovasi e tombini soprattutto, si trovano in aree private. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita alle 22.43 di ieri sera a Roma. L'epicentro, secondo quanto riportato, è stato a 3 chilometri dal comune di Colonna, est della capitale, ad una profondità di 9 chilometri, tra i comuni vicini e anche San Cesareo Gallicano, nel Lazio, Zagarole, Monte Compatri. Paure in città e molte segnalazioni dei cittadini a 112, numero delle emergenze, ma finora nessuna indicazione di danni a cose o persone. L'ATAC ha fatto sapere che la metro C è stata sospesa per le verifiche. Dopo una giornata trascorsa interamente a Villa Oleandra, in serata Barack Obama, George Clooney e le rispettive famiglie hanno lasciato la Villa dell'Attore a L'Aglio per raggiungere il motoscafo Villa d'Este a Cernobbio, dove hanno cenato accompagnati da scorte personali delle forze dell'ordine. È stata l'unica uscita dell'ex presidente degli Stati Uniti dopo il suo arrivo sull'Ario ieri mattina. Obama, Michelle e le figlie ripartiranno oggi in giornata. Il presidente Donald Trump sarà in visita per due giorni in Corea del Sud dal 29 giugno dopo il G20 di Osaka in Giappone. Il giorno dopo, riferito a Seoul, il taikun avrà un colloquio col presidente Moon Jae-in su come riavviare il negoziato con Pyongyang sulla denuclearizzazione della penisola coreana. Ieri il leader Kim Jong-un, tramite la KCNA, ha fatto sapere di aver avuto una lettera dal taikun dal contenuto eccellente, ultima di uno scambio fitto di missive tra i due. Alcuni edifici del centro di Darwin, nord dell'Australia, sono stati evacuati dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 7.1 registrata a largo dell'Indonesia. Lo riportano i media internazionali. Diverse le testimonianze degli abitanti della città australiana che hanno raccontato sui social media di aver visto edifici oscillare e tavoli tremare. Tuttavia al momento non ci sono notizie di danni o feriti. Ne è stata emessa un'allerza tsunami per l'Australia. Il Comitato Olimpico internazionale assegna oggi i giochi invernali del 2026 in corsa a Milano-Cortina e Stoccolma-Are. Questa mattina si sono riuniti i delegati. Alle 16 comincia la votazione e alle 18 l'annuncio. La Francia batte il Brasile 2-1 dopo i tempi supplementari e vuole quarti di finale dei mondiali di calcio femminile. I tempi regolamentari del match, giocato alle Avre, si erano conclusi in parità 1-1 dopo i gol della francese Gauvin a segno al settimo minuto della ripresa e il momentaneo pareggio verde-oro al diciottesimo del secondo tempo di Thaisa. Al minuto 106 il gol vittoria di Amandine Henry. Questa per noi era l'ultima notizia, ma il TG torna come sempre domani alle 13.30. A tutti voi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.